Immancabile weekly del sabato mattina per fare il punto sulla settimana infernale appena trascorsa e per affarciarci a quella speriamo migliore che verrà, oggi l'ho fatta così. Oggi weekly potenzialmente pieno di tagli perché ho qui il malatino che mi fa compagnia perché devo tenerlo sott'occhio perché si è stata una settimana abbastanza complessa perché come avevo anticipato il mio cane si è operato questa settimana e di conseguenza ho dovuto caricare tantissimo sulla preparazione al giorno dell'operazione per assicurarmi che non ci fossero disagi sul canale. Abbiamo lavorato parecchio questa settimana per fare un po' di video, un po' di archivio così che poi i giorni fossero un po' più lieti, un po' più leggeri e appunto oggi che è venerdì sto registrando solamente il weekly, caso eccezionale. Però me lo tengo a portare perché appunto ha fatto una cosina. Tra l'altro grazie a tutti quelli che si sono preoccupati di lui, di noi che l'abbiamo dovuta gestire. È stata fortunatamente un'operazione tranquilla, nel senso ci sono stati problemi, intoppi. Ha fatto un'operazione in Cina per levare un tumore. Doveva essere, mi aspettavo un taglio piccolino, in realtà gli hanno fatto uno sbrego abbastanza importante, però sta benino, quindi munito di body eccetera, però sta bene, quindi poteva andare peggio. Il problema è che appunto abbiamo dormito tipo stanotte, vabbè, perché non abbiamo dormito, i giorni precedenti un po' pochino e dormiremo credo un po' pochino. Ma comunque se sa, quando uno ha gli animali e li vuole curare in un certo modo, alla fine sono membri della famiglia e come tali il tempo a volte va un po' così. Detto questo, è stata comunque una settimana bella impegnativa perché ci sono state un po' di cose, è stato finalmente l'annuncio dell'imminente annuncio di GTA 6, a dicembre se ne parlerà. Ovviamente ragazzi, come vi dico da mesi, anni ormai, ne parleremo quando ci sarà qualcosa da dire. Ho fatto giusto un post per avvisarvi nei giorni scorsi, ma il video mi sembra veramente la cosa più superflua del mondo, così come lo era in occasione dei rumor in descrizioni, 8000 volte eccetera. Però appunto chiaramente ne parleremo quando sarà. Ma io onestamente, nonostante non sia mai stata ai Game Awards, abbia sempre un po' snobbato l'evento Rockstar, mi aspetto un reveal durante i Game Awards. Magari sbaglio, però sarebbe proprio il momento più importante. In questa settimana abbiamo fatto anche la serie di COD, sono contento di averla potuta registrare in tempo, temevo di non farcela, in realtà poi ho capito che quelle 3-4 ore me le potevo ritagliare, quindi è andata, e la recensione. Abbiamo fatto il pacchetto completo questa settimana, non è stata la serie che ci aspettavamo, nel senso, credo tra tutti i COD, come vi dicevo nella recensione, forse è la peggior campagna mai fatta. Però è stato comunque piacevole condividerla, ecco, l'ha resa un po' più lieta la condivisione con voi. Però ci voleva, ecco, ci voleva ogni tanto un momento nostro, ormai le serie di COD sono un po' come le serie di FIFA, sono il momento della community, e mi piace farle anche solamente per quello, tant'è che appunto ero un po' dispiaciuto dell'idea di non poterla fare, ma se ho durato letteralmente il tempo del weekly, poi ho letto i commenti, dai, alla fine, mi avete convinto. Altra domanda che questa settimana ricorreva con una frequenza inaudita, le fiere, perché non sei alle fiere, perché non sei stato a Luca Comics, è un discorso che ho fatto tante volte e lo rifaccio brevemente, ma giusto per darvi, visto che in un periodo di fiere ricorre tantissimo alla domanda. Ragazzi, noi abbiamo scelto un percorso che non ci permette il lusso di prenderci dei giorni per andare a fare le fiere. Per noi prendere due, tre, quattro giorni per andare in giro è un problema. È chiaro che ci piacerebbe poter essere presenti in eventi del genere, poterci conoscere con voi, avere occasione di stare un po' insieme, ma concretamente quando si fa questo tipo di attività arrivi al famoso bivio o fai un lavoro di un certo tipo o ne fai un altro e noi quell'altro in questo momento ci risulta difficile, avendo così tanto lavoro da fare in un certo modo. È chiaro che se fossimo più leggeri su altro avremmo il tempo di fare anche tutte le fiere del mondo, ma purtroppo non è questo il nostro caso. Dovendo fare tante cose il tempo quello è e quindi per ora risulta... In futuro magari qualche volta ci sarà occasione, ma dubito fortemente che ci vedrete a fare il giro delle fiere. Quello onestamente lo trovo abbastanza improbabile. Tant'è che sono contento quando magari capita dentro Roma che incontro qualcuno di voi, che uno si ferma a fare due chiacchiere, perché quello è un po' una piccola scusa per vivere un po' la community, ma capita di raro, va, capita purtroppo un po' di raro. Detto questo, allora, lunedì penultimo Calarasi. Lo so, so cosa state pensando, è un momento triste per tutti. Lunedì, lunedì parleremo anche di altro, e in questo momento non so se lo posso dire o no, quindi non ve lo dico nel dubbio perché non vorrei fare macello proprio nel weekly, perché rifarlo sarebbe un dramma. Questione 2K. Allora, sono mesi che chiedete un aumento della qualità dei video? Alcuni, non è una cosa così diffusa, però quei qualcuni, sì, quei pochi che lo chiedono, hanno ragione. Quindi stiamo lavorando a un potenziamento della risoluzione dei video, per cercare di, chiaramente, impegna più tempo, però è il momento di farlo un pochino. Discorso Rexham. Allora, io ho registrato tutto quello che c'è da registrare, e non tradirò alcunché dal mio viso, fino a mercoledì. Venerdì, giorno di pausa, domenica, che cade a fagiolo con la pausa nazionale, diretta, per capire il futuro della serie. Non dico altro. Mi mantengo l'assoluto silenzio al riguardo. Quindi, siateci domenica prossima, tra l'altro questa settimana chiaramente non siamo stati presenti mai in live, per ovvi motivi. La settimana che sta entrando, per qualche giorno, credo ancora non ci saremo, conto di tornare in live mercoledì, salvo colpi di scena. Lunedì abbiamo il controllo per lui, per lui, per chi non l'avesse eseguito all'inizio live, e poi penso che ci avremo qualche giorno di tregua, tra visite e cose varie, per cui credo appunto per quel di sia una data papabile, non dovremo controllarlo a vista, non dovremo stare lì dietro tutto il tempo, per evitare che si gratte, perché se si gratte è veramente un disastro. È per quello che siamo un pochino, un pochino sempre sul chi va là, però, devo dire, è molto molto più bravo di quanto avrei immaginato, ecco, in questo caso. Detto questo, ulteriori cose, abbiamo parlato della serie di Onimusha sul canale di Lisa? Vi invito a recuperarlo, se siete appassionati della serie videoludica, perché potrebbe valere la pena di buttarci un occhio, nonostante in giro abbiamo parlato malissimo, ripeto, una cosa che non capisco, perché ci ha accompagnato nei giorni che precedevano l'operazione con una certa... con un certo piacere. Mi è piaciuta, a me la serie, devo dire la verità. E poi, dovremo parlare anche di attacco di Giganti, in settimana, un sacco di cose, e domenica c'è il derby, parlando anche di canali vari, domenica c'è il derby, il derby che io dovrò seguire nel maggior silenzio possibile, io e mio padre, perché una piccola retroscena di casa Falco, dovete sapere che ogni volta che c'è la partita, e ogni volta che io o esulto, o mi arrabbio, il cane inizia a fare dei salti per aria, in preda all'entusiasmo, all'euforia, e pensa che è tutto un gioco, visto che sta pieno di punti, io dovrò vedermi il derby tipo Salma, e sarà durissimo, ma comunque, mi sfogherò semmai in video, quando stava finito tutto, comunque, ragazzi niente, detto questo, scusate se ho veramente una faccia devastata, peggio del solito, ma mi credo sono stati i giorni un po' pesantini, fatemi sapere, suggerimenti, idee come sempre, sono ovviamente ben accetti, date un'occhiata a Yakuza, mi raccomando, io continuo a evangelizzare, settimana prossima torna indimenticabili, tante belle cosine in arrivo durante la settimana, spero di riuscire a concretizzare tutto, ma ripeto, state tranquilli, perché tanto sul canale non mancherà mai niente, per fortuna non ci sono stati notizie incredibili, quindi abbiamo potuto affidarmi totalmente a ciò che avevo già preparato, ma appunto i soliti due video al giorno ci stanno sempre, ragazzi, un abbraccio, buon weekend, e noi ci vediamo sapato prossimo, sapato 10, al prossimo weekly, ma già in giornata un po' di cose, domani un altro po' di cose. dal prossimoKettine ー Grazie a tutti